Il limite di Lega Ambiente è concepire l'ambientalismo come raccolta firme. Così il vice sindaco Andrea Virgili ha voluto minimizzare al termine di un incontro con l'associazione il tentativo messo in piedi insieme a diverse realtà del territorio di chiedere uno stop al progetto di un polo logistico a San Felice. La raccolta firme, le cui oltre 1000 sottoscrizioni sono state portate all'attenzione del Consiglio nei giorni scorsi, pur avendo mobilitato molti cremonesi, rimarrà lettera morta. L'assessore replica che il progetto è inserito nel PGT da anni, attraversando tre diverse amministrazioni, pertanto si farà. La raccolta firme è stata davvero un successo per Cremona, che ha fatto sentire la voce proprio dei bisogni dei cittadini a chiedere all'amministrazione peraltro un'azione politica concreta, cioè di togliere l'ambito di trasformazione all'interno del piano di governo del territorio in corso di revisione. Quindi una richiesta assolutamente fattibile e che l'amministrazione non si deve nascondere nei 15 anni precedenti di pianificazione, in un contesto che ci chiede di cambiare. Sappiamo che Cremona è la seconda città più inquinata d'Europa, quando sappiamo che Cremona è all'interno delle infrazioni europee proprio per la qualità dell'aria, quando sappiamo che il polo logistico qualificherà in peggio il lavoro a Cremona. Opportuno leggere i tempi e agire con lungimiranza, secondo le associazioni ambientaliste che rifiutano la risposta e si preparano nuove mosse per contrastare questa e altre scelte di trasformazioni che comprendono nuovo cemento, nuove opere, un conseguente aumento di inquinamento, diminuzione di impermeabilità del terreno, aumento di traffico e rifiuti. Il polo logistico è emblematico proprio per il disegno dello sviluppo che la politica sta scegliendo non in risposta e non a beneficio dei cittadini. Una visione di città e di territorio che assolutamente è inadeguata rispetto alle sfide che invece Cremona è tenuta ad affrontare in modo completamente diverso.